Parliamo di Keystagram, un sito internet che consente di realizzare delle custodie per iPhone e per iPad completamente personalizzate, sfruttando il nostro account di Instagram e le foto che abbiamo scattato. Come state vedendo il packaging di Keystagram è davvero molto curato e si presta benissimo per un'idea regalo. Potremo quindi caricare le nostre foto di Instagram su Keystagram.com, organizzarle all'interno della custodia per iPhone o per iPad e queste verranno stampate in ottima qualità ruvide al tatto e poi create e organizzate per la vostra custodia personalizzata.